Di cosa c'è bisogno oggi a scuola per imparare queste cose qui, per entrare davvero nel futuro? Come deve cambiare la scuola? Poi lo vedremo quando arriverà il ministro, ma intanto c'è un gruppo di ragazzi che si sta inventando un progetto per cambiare la scuola. Alberto Rizzoli, vai! Ciao a tutti, ciao a tutti, mi chiamo Alberto Rizzoli e sono qui per parlare di 3D printing in educazione. Quanti di voi avete mai usato una stampante in 3D per creare qualcosa? Qualunque cosa, alzate la mano. Una mano alzata? Stampante in 3D? In classe? Ce l'avete? Meno di 5. Pieno di stampante in 3D in classe, nelle scuole italiane Alberto è pieno, ce n'è una in ogni banco praticamente. La maggior parte probabilmente non ha mai avuto l'opportunità e questo riduce drasticamente la probabilità che qualcuno di voi consideri una carriera in ingegneria o che si ritrovi un maker prima di iniziare l'università. Per questo inchiede il nostro obiettivo è quello di portare le stampante in 3D nelle scuole e di insegnare agli studenti le abilità necessarie per diventare makers. Perché in effetti per creare qualcosa di bello in una stampante in 3D servono delle abilità che non sono tanto facili da acquisire come CAD modeling o anche disegnare in tre dimensioni e non sono facili soprattutto se si è molto giovani, come dei ragazzi di 8 anni al quale stiamo insegnando in questo momento. A 8 anni li dovete già usare la stampante in 3D? Dagli 8 ai 12 ma la maggior parte sono molto giovani, perché più giovani si inizia meglio diventano quando raggiungono la tata di Cesare. Esattamente, l'esempio perfetto. Quindi abbiamo visto le cose che divertono più gli studenti quando usano le stampante in 3D, perché anche insegnare non è così facile, una delle attività preferite è quella di farsi scannerizzare il corpo e poi farsi stampare la testa in 3D e seppure sia molto divertente come attività non è molto educativa, non si imparano delle grandi abilità che poi potranno essere usate. Però se quando escono da questa sala se lo vogliono andare a fare sarà pieno di posti dove lo possono fare, portate a casa una vostra scansione, un bustino in 3D. Vai. Mentre se viene data completa libertà creativa non si ottengono dei risultati molto belli, di solito al massimo riusciranno a stampare il proprio nome sullo stage, ma è più probabile che creano dei cubi sparsi per la loro creazione, senza raggiungere un vero scopo con la loro creazione. Quindi ci siamo chiesti come poter insegnare ai ragazzi a scuola a usare le stampante in 3D nel miglior modo possibile. Abbiamo tratto ispirazione dal sistema educativo finlandese, uno dei migliori al mondo, quindi insegnanti nel pubblico, aprite un po' le orecchie. Cioè, che è quello che sembra? Un pezzo di un campo di golf? Un campo di golf, un esempio di un esercizio matematico in Finlandia nel quale gli studenti gli viene dato il potere di trovare una soluzione creativa a un problema, anche in matematica e sono a capo di tutti gli step necessari per raggiungere una soluzione creativa. Ad esempio in questo gli viene detto di calcolare la traiettoria della linea viola, vengono dati degli indizi e poi gli viene detto scoprite il teorema di Pitagora. Ed è questo tipo di mentalità che volevamo seguire in Kidville. Kidville è un kit educativo per creare delle classi che insegnano a usare le stampante in 3D. Ma un professore italiano potrebbe prendersi Kidville e portarlo in classe come modulo? Assolutamente. È una scatola per il quale possono fare sei settimane di corso e insegnare il making ai propri ragazzi. Professori ci siete? avete sentito? Si va sul sito di Kidville? Sì, kidville.com. Quanto costa? Costa al momento, veniamo nel Regno Unito a 350 sterline. 350 dove trovo un altro modo? Può essere utilizzato. Non ci stanno? Non te lo dico già, non ci stanno. Troveremo degli sponsor. Vai? Si trova. Quindi viene creata un'atmosfera nel quale gli studenti vogliono creare un po' una una propria piccola attività imprenditoriale. Viene creata un'isola su questa tavola a cui partecipano tutti gli studenti. Vengono piazzate le proprie case in una vera e propria fiaba creativa per i ragazzi. E poi ogni ragazza, secondo la loro passione, viene dato un obiettivo di costruire una struttura essenziale per il funzionamento della città che stanno costruendo. Quindi se vi piace lo sport potreste disegnare lo stadio sopra l'isola. E tutti i passaggi dal progetto, dall'idea fino al making sono nelle mani dello studente ed è così che si crea un maker. Ci sono diverse settimane di lezioni nel quale si inizia a disegnare in 3D e dopo si passa al CAD modeling e in questo momento lo studente sa esattamente quello che deve fare. Non è più perso nel creare forme a caso, disegnare il proprio nome. Creano delle strutture con una funzione, con un significato, quelle che hanno disegnato loro, secondo i loro obiettivi. Ad esempio questi sono stati fatti da ragazzi di 8 anni, questa è una fattoria con un silo per il mais e devono creare una finestra. Usando Autodesk. Sì, questo è 123D di Autodesk. Questo invece è un faro, strutture interessante. Questi sono dei miei preferiti perché devono creare una villa hotel e oltre che a mettere una vasca a idromassaggio hanno anche aggiunto un piccolo cane all'entrata. Un po' di comodità ci vuole, hanno umanizzato il disegno. E poi? E poi inizia la stampa. In questo momento hanno seguito tutti gli step necessari. E si possono stampare il proprio progetto? Si possono stampare il proprio progetto e in questo momento hanno imparato come essere dei linker. Questi sono dei modellini che in questo momento dei ragazzi attraverso il Regno Unito stanno creando nelle proprie scuole. E gli insegnanti vengono da noi e ci dicono che la classe in cui fanno K-Deville è l'highlight della loro settimana. I genitori ci dicono che sono contenti perché i loro figli la scuola stanno disegnando una stazione spaziale o uno shopping center. Una cosa più importante è che da un'età molto giovane si ritrovano con le capacità di ripetere questo processo di creazione, diventare gli ingegneri del futuro, gli innovatori del futuro e i maker del futuro. Alberto grazie, complimenti. In bocca al lupo per K-Deville. Speriamo che arrivi anche in Italia.